Ok, allora stiamo registrando. Buona serata a tutti. Quindi siamo qui con Blender 2.91 e stiamo per vedere un pochino di quello che si chiama lo sculpting o sculpting in Blender. Allora, è una cosa che, come dico spesso, è molto carina, è molto semplice tutto sommato, una volta capita. Ad esempio con i ragazzi credo che sia molto interessante proporlo perché è un po' come lavorare con il Pongo, la Creta, quello che si faceva una volta. Quindi la versione moderna di quello che si faceva nelle scuole o anche a casa, nei pomeriggi estivi in cui non si sapeva cosa fare, ci si metteva lì e si facevano delle statuine, dei volti o delle cose. Premetto che io sono negato nello sculpting, quindi tutto quello che faremo saranno dei mostricciattoli. E da qui nasce l'idea che adesso vedrete, che è quella di proporvi, di fare una specie di mostra di mostri. Quindi dei piccoli mostricciattoli, quindi delle cose su cui magari metterete degli occhietti o delle cose del genere e che magari lo portiamo poi per Natale, i mostri di Natale, come aveva detto Michelangelo. Allora, se siete tutti pronti, ma più brutti sono e più è meglio. Mostri in mostra, sì. Vabbè, è classica. Allora, prima di tutto Blender 2.90.1 è la versione che c'era fino a ieri sera e uscita ieri sera è una versione nuova, ma noi, visto che abbiamo iniziato il corso di Blender con questa versione, la finiamo con questa versione. Le modifiche a me piacciono molto, ci sono anche alcune sullo sculpting che sono interessanti, ma non sono essenziali, nel senso che noi lavoriamo con le basi dello sculpting, quindi non con delle cose complicate e quindi, quindi niente, adesso entriamo, ci troviamo nel nostro cubo, il nostro cubo, adesso vediamo un po' se riusciamo a vedere bene dall'alto. e quando abbiamo il nostro cubo, vedete che una delle opzioni in alto è proprio sculpting. C'è modeling e sculpting, quindi vuol dire che quando modelliamo possiamo anche scolpire e scolpire è una di quelle attività, diciamo, principali, quindi si modella e si fa sculpting. Quindi dobbiamo imparare anche a fare sculpting. Suppongo e spero che voi siete già un pochino, non dico avanti, ma insomma abbiate visto un pochino del modeling, no? Se no, in effetti iniziare subito con lo sculpting può essere un passo lungo, però si può fare tutto, se non è detto. Allora, quando andiamo in sculpting, la cosa che succede è che vediamo sulla destra praticamente che abbiamo un pennello che si chiama Draw. Draw vuol dire dipingi. E sulla sinistra abbiamo l'insieme dei pennelli. E poi abbiamo questo cursore blu che si muove. Ora, la cosa più frustrante di Blender, che me ne rendo conto, è che quando si entra in modalità sculpting e si prova a cliccare, non succede nulla. E questa è la cosa più tremenda. Cioè io premo il tasto centrale per muovermi attorno al mio cubo e non riesco a fare niente. Quindi questo è un blocco assoluto, perché dice io voglio scolpire. Come faccio a scolpire? La risposta è che occorre usare una tecnica che aumenti i vertici. Se noi andiamo a vedere in modalità modifica, vediamo che questo cubo iniziale è composto da pochissimi vertici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che non si vedono, sono dietro. Tra l'altro, piccolo trucco, se fate Z e poi fate reticolo, vedete tutti i vertici. Quindi vedete proprio la figura, ve l'avete già visto. Ora, lo scolping, premo Z, solido, per tornare alla modalità normale. Allora, lo scolping invece si fa quando si hanno centinaia di migliaia di vertici. Perché? Lo scolping è l'attività di prendere tutti questi vertici e di farci delle cosine sopra, no? Quindi come avere la sabbia, no? Lo scolping è un po' come la creta, no? Che è composta da tanti pezzettini che possono essere tirati, stirati, pigiati e tutte queste cose qua. Allora, quindi la prima cosa da fare è moltiplicare questi punti. E per moltiplicare questi punti ci sono almeno tre metodi. Uno è la topologia dinamica, che vedete in alto a destra, che però io trovo molto carina, ma un filo complicata. C'è una tecnica che è semplicemente la sub-divide, che alcuni di voi hanno già visto che hanno usato. Ma c'è una cosa ancora più semplice che ricava. Poi c'è anche un'altra tecnica che ho fatto vedere nei miei video, che si chiama, un modificatore che si chiama multi-res. Quindi, non so se voi avete notato, qualche settimana fa io ho fatto dei video. E ho fatto dei video in cui facevo vedere come si usava sia il ricava, che sarebbe remesh in inglese, sia, credo, no, la topologia dinamica forse no, però il multi-res sì. Ora, stasera vedremo il ricava. Ricava è semplicemente una cosa molto semplice, cioè si clicca ricava e poi qui si mette, io suggerisco per iniziare ad avere dei risultati decenti, un voxel di 001. Quindi, scrivendo voxel 001 e poi remesh, ok, lui ci impiega un attimo, e lui ha trasformato questo nostro cubo, che in origine aveva otto vertici, in una cosa che ne ha molti di più. Per vedere quanti vertici ha, c'è questa cosa molto interessante che si clicca qua, e si clicca su statistics, e vedete che adesso noi ne abbiamo 242.000. Ora, questi 242.000, se li volete proprio vedere, andate in modifica, e vedete che è diventato tutto nero, perché è diventato tutto nero, perché sono comparsi tutti i super vertici che ho messo. Sì, poi forse c'è anche tanta altra cosa in più, dice anche Eva, eccetera. Comunque, una volta che abbiamo tanti vertici su cui giocare, possiamo cominciare a vedere che quando andiamo in modalità scultura, questa, e che tra l'altro quando siamo in modalità scultura, io suggerisco sempre di mettere la... clicchiamo, qui siamo in solid mode, ma se clicchiamo questo tastino, abbiamo il cut matte. Il cut matte è un sistema di illuminazione, insomma di colorazione del nostro solido, che permette di averlo in modalità un po' più o meno legante. Io ad esempio uso questo, la modalità di... io la chiamo creta, no? Perché facendo così si vede come se fosse fatto di creta. Analogamente si può usare un altro sistema, quindi ad esempio questo qui che è un po' più scuro, quindi proprio creta un po' più scura, e così via. Però, visto che questo è un filo troppo scuro, quindi userei questo. Quindi quando siamo in modalità sculpt e quando abbiamo abilitato il ricava, allora a questo punto, nel momento in cui scegliamo un pennello, possiamo fare dei mestieri. Allora, questi pennelli, così sono un po', diciamo... Adesso vediamo cosa avete scritto, perché c'è tante cose... Ah, 001, andiamo ad inserire 001, sì. Se mettete un numero... In realtà potete mettere qualunque numero. Io ho messo 001 perché mi moltiplica i vertici a un livello accettabile. Ma se voi volete... riuscite a scolpire e vi piace, anche mettendo 002, va bene, uguale. Non mettete meno di 001, secondo me, perché poi diventa troppo complicato per il computer da starvi dietro, perché diventa troppo complesso, per lui. E può darsi è che anche per i vostri computer sia già troppo. Quindi se per caso vedete che per il vostro computer le cose che vi faccio vedere diventano troppo lente, magari, anziché 001, provate a mettere 002 o 005. Cioè, un po' più grande questo numerello e un po' meno stress fatte sul computer. Ora, i pennelli. Vediamo che si stanno... Perfetto. Allora, i pennelli compaiono tutti sulla sinistra. I pennelli, io preferisco allargarli. Normalmente, quando scolpisco, io ho la tavoletta fatta così, in cui i pennelli praticamente mi stanno tutti su una sola videata. Per stasera, però, le allargo ancora un pochino, perché a questo punto c'è proprio scritto che cosa sono, no? E noi li esploreremo tutti. E in particolare vedremo che i pennelli sono suddivisi in categorie. Sono tantissimi i pennelli. Noi stasera ne faremo non tutti, beh, tanti, perché è molto divertente fare i pennelli. Però, ad esempio, questi ultimi qua che hanno fatto, che tra l'altro sono bellissimi, tipo questo che fa animazioni di tessuto, poi ce ne sono altri che fanno proprio animazione di mesh, insomma, fanno delle cose micidiali. Non le faremo, ma faremo le cose, insomma, un po' più classiche. Quindi, il primo pennello che incontriamo è il disegna. Allora, il disegna, draw in inglese, praticamente, se l'abbiamo selezionato, e lo vedete qui sulla destra, vedete che questo pennello vi fa vedere che cosa fa. Quindi fa, deposita, cioè praticamente crea, praticamente, una sorta di rilievo sul oggetto. Nel 2.91 è ancora più interessante, sì. Quindi, allora, noi andiamo e proviamo a prendere il nostro cubo e proviamo a tracciare un segno. Ora, come vedete, stiamo effettivamente modificando la mesh e otteniamo praticamente quello che è una specie di solco in rilievo, no? Non so come chiamarlo. cioè praticamente stiamo lavorando sulla mesh producendo questo effetto. Quello che è interessante è che... Vediamo un po' cosa mi scrivete, al solito. bombatura. Perfetto, ok. Questa bombatura, in realtà, potremmo anche farla più o meno larga, più o meno piccola. Ma per il momento ho scoperto per motivi didattici, cioè almeno preferisco per motivi didattici, tenere sempre lo stesso livello di grandezza del pennello, perché così confrontiamo tutti i pennelli. Quindi adesso facciamo un'esplorazione dei pennelli. Allora, i pennelli, abbiamo visto che questo è il disegno. Cosa sarà mai il disegno sharp? Se la proviamo a fare, vedete che crea praticamente una specie di incarramento. Se proprio voi, tra l'altro, siete molto più bravi di me a trovare la parola giusta. Nel 2.91 è meglio, sì, ma comunque i concetti sono sempre più o meno uguali. e quindi questi di base vanno bene anche col 2.90. Allora, disegno, quella differenza fra il disegno e il disegno sharp è che nel disegno sharp in realtà incido anziché mettere il rilievo. Se vado poi sul play e provo a tracciare qualcosa col play, vedete che abbiamo un effetto diverso, nel senso che lo vedete praticamente nel profilo, nel senso che mentre nel disegno abbiamo praticamente una sorta di collida, nel clay abbiamo un rilievo fatto a trapezio. Quindi è un po' più largo, è un po' più consistente. Quindi è un modo di disegnare che può essere più o meno interessante. Tra l'altro, notate, non so se avete notato, che quando disegno i punti, cioè il disegno in simmetria. Questo perché lui, quando entra in modalità sculpt, ammette una simmetria. Cioè tutto quello che faccio alla sinistra funziona anche alla destra. Adesso facciamo un attimo un control z perché la simmetria la voglio fare qua. Cioè anzi, voglio ottenere un effetto da praticamente striscia, striscia incisa e striscia invece di argilla, no Clay? Essendo che c'è la simmetria, lo trovo anche dalla parte opposta. Quindi lo vediamo in questo senso. La Clay Strips, questa cosa qua, fa una cosa ancora diversa. Vedete che fa una specie di effetto non so come descriverlo, però è carino. è un effetto che ad esempio si presta per fare allora questo e questo lavorano in maniera simmetrica, però notate che il draw sharp è un pochino più un pochino più forte, no? Incide, ma incide in maniera più forte dell'equivalente fatto qua. Quindi tutto sommato non è non è lo stesso pennello invertito, ma è un pennello un po' più tagliente, sharp vuol dire quello. Allora, Clay Strips quindi fa questo effetto, Clay Tomb che è questo qua, fa una sorta di effetto invertito di questo e praticamente permette di lavorarci. Ora, notate è che se continuiamo a passare il mouse lungo dove abbiamo fatto praticamente questa cosa, amplifichiamo il pennello, quindi il pennello praticamente tende a lavorare di più e quindi fare degli effetti molto più evidenti. Vedete che è fatto così, no? quindi continuo a dire sopra, continuo a modificare la mesh in modo tale da ottenere man mano praticamente, cioè praticamente posso proprio costruire dei pezzi di mesh, quindi posso proprio giocare con questa cosa e ottenere praticamente degli effetti anche notevoli, quindi non soltanto una semplice incavatura, ma proprio un effetto notevole. Notate che se per caso sbaglio a fare lo sculpting, vedete qui ad esempio tanto che incidevo qua sopra, ha avuto un effetto qua sotto, posso sempre premere shift mi sembra, ok, shift è una specie di non cancellino ma una specie di smoother, ciò che serve per correggere gli errori semplicemente cercando di io premo shift e vado a lavorare qua sopra e quindi qui mi corregge le cose un po' eccessive, tipo qua che non volevo farlo, quindi mi corregge quella cosa. Se lo faccio qua, lo shift con questo, cerca un pochino nel possibile, adesso qui in realtà è già un pochino, comunque facendolo in maniera un po' chirurgica migliora un po', insomma riduce o ingrandisce, insomma riduce l'effetto, quindi una specie di piccolo undo di quello che ho fatto, comunque si ottengono una serie di effetti. Notate che a un certo punto quando lavoro i pixel, cioè i punti, i vertici si modificano parecchio e possono anche alterarsi in modo tale da non essere fatti per bene, insomma diventano troppo stirati. Allora ogni tanto conviene rifare il ricava mesh, quindi andiamo qua, facciamo ricava mesh, sempre 001, facciamo remesh, e lui praticamente con questa operazione aggiusta le mesh, nel senso che cerca di rendere un po' più omogene tutti i vertici, evitando che ci siano delle zone con troppi pochi vertici. Quindi questa è un'operazione che ogni tanto si deve fare. È una cosa talmente diciamo di routine che hanno messo un control R, in questo caso io faccio control R, adesso qui non si vede, ma il control R esegue un remesh. Quindi questo è un workflow che si usa per lavorare diciamo per fare sculture di questo tipo. Ora dove eravamo arrivati? Quindi eravamo arrivati al Clay Thumb che era questo qua, che praticamente scavava. Vediamo ancora il livello. Il livello è un'altra cosa abbastanza interessante, nel senso che il livello praticamente genera una specie di striscia ben definita. avete visto che qui viene una striscia diciamo un po' diciamo fatta fatta in questo modo invece con il livello questa cosa qua otteniamo proprio una striscia quindi possiamo costruire degli effetti interessanti. L'inflate che questo genera praticamente è una specie di una cosa molto simile al draw però praticamente inflate in realtà vuol dire che gonfia quindi vuol dire che se noi applichiamo l'inflate qua praticamente e continuiamo a cliccare otteniamo un rigonfiamento questo qui crea praticamente un rigonfiamento e noi possiamo usarlo per creare delle specie di borchiette quindi possiamo creare delle borchiette eccetera il blob è un altro pennello che fa una cosa simile all'inflate però è molto più deciso vedete che praticamente bastano poche spennellate per ottenere un effetto abbastanza forte e poi abbiamo un effetto piega la piega praticamente cosa fa crea un anche lì incide però quindi sarebbe in teoria poi magari ci sono differenze sarebbe un po' simile alla draw sharp però un pochino più leggera quindi permette di piegare praticamente e fare gli effetti un po' più un po' più tenui poi sì con la tavoletta grafica per chi la sa usare perché anche lì non è che si impari in maniera istantanea però con la tavoletta grafica diventa tutto molto più semplice perché col mouse quando io clicco clicco invece con la tavoletta grafica lui sente anche quanto premo la penna e quindi riesco a incidere esattamente in funzione di quanto premo che è una cosa che per chi per chi lo sa usare ovviamente è notevole ok allora queste qui abbiamo finito diciamo la parte blu cioè sono le parti le parti diciamo base tra l'altro io ho seguito diversi corsi su su youtube eccetera dove le persone facciamo contro l'r giusto per vedere ho fatto contro l'r e dovrebbe aver aggiustato queste parti e molte persone dicono che loro non usano tutti i pennelli ma ne usano uno due tre no cioè si fissano su alcuni pennelli che gli piacciono e usano quelli perché poi alla fine più o meno i pennelli a volte si sovrappongono quindi si può ottenere lo stesso effetto con altri pennelli ma è solo per evitare insomma di avere troppe cose troppa carne al fuoco no c'è troppe cose da imparare da usare contestualmente invece questi pennelli rossi che vedete sono allora l'eviga è lo stesso effetto che ho fatto vedere prima se praticamente cerca di ridurre cerca di rendere più morbidi i confini quindi se io lo applico praticamente su un pezzo mi attiene un effetto cerca di ammorbidire quindi se è fatto troppo a lungo praticamente cancella tutto è un po' come la sabbia delle dune che se cade dopo un po' se c'è una tempesta dopo un po' cancella tutto quindi vedete che qui cominciamo a vedere quell'effetto rilassamento che dicevo io nel senso che uno che una delle cose che si fa con lo sculting è quello praticamente di fare delle cose e poi di sfarle per il semplice gusto di vedere che si ha un effetto quindi un po' una specie di scaccia pensieri quindi il leviga è una sorta di tentativo di correggere degli errori dove gli errori sono delle zone troppo troppo nette tipo qua vedete che qui ci sono degli errori allora qui quando se uso il leviga posso andare sopra vedete che riesco a correggere gli errori notate che lo stesso effetto del leviga forse l'ho detto anche prima lo si attiene premendo lo shift cioè praticamente quando siete praticamente su un qualunque pennello e premete shift viene automaticamente abilitato un leviga questo perché il leviga è usato moltissimo vedo che abbiamo una persona in sala d'ottesa quindi leviga l'abbiamo visto appiattisci invece fa un effetto tipo leviga ma molto forte nel senso che vedete che tende a rendere un po' piatto la cosa per esempio questa estremità qua la voglio lavorare perché è troppo cioè non è bellissima così quindi ci lavoro sopra la appiattisco e quindi ottengo un effetto fatto così il riempi è un pennello che praticamente è dato un incavo di questo tipo se io ci passo sopra praticamente lo riempie nel senso che se io l'ho fatto troppo profondo lo riempie con del materiale immaginate io personalmente lo vedo come un lavorare con la sabbia no? cioè praticamente si riempie di sabbia a quel posto e quindi riesco a fare dei mestieri scrape è una cosa interessantissima perché praticamente cerca di tagliare un po' fa un po' un'abrasione nel senso che vado su un pezzo tipo sullo spigolo vedete che giro e man mano che vado riesco a ottenere praticamente un effetto che è molto molto simile all'effetto con cui si rovinano gli spigoli di legno non so se avete qualche spigolo di legno in casa e si rovinano praticamente si ottenuano con questo sistema quindi se uno vuole ottenere un effetto di legno consumato sì il sì questo è un effetto che tra l'altro si usa molto per aggiustare per rendere vecchie le superfici per rendere consumate le superfici quindi questo effetto praticamente è molto interessante e ho visto diversi tutorial insomma corsi che lavorano molto con lo scrape poi c'è e qui cominciamo ad andare nella parte un po' complicata ma alcune di queste cose qua sono talmente talmente sì sono complicate ma sono talmente carine che vale la pena di farle vedere per esempio il multi plane scrape è una cosa che hanno aggiunto da poco relativamente che serve per rendere lavora molto sugli spigoli nel senso che se io vado con il multi plane e vado sugli spigoli vedete che lui crea praticamente è come se avessi una specie di cuneo vedete che è fatto con ci sono quelli due rettangoli e incide praticamente generando una specie di spigolo libero adesso qui è una schifezza ma è giusto per capire se lo fate su uno spigolo rende abbastanza bene nel senso che lo spigolizza e lo consuma in un certo modo se fatto all'interno invece del cubo di quello che fate crea praticamente una specie di pinzatura quindi crea una specie di tipo cucitura che può avere anche la sua utilità il pinch è un sistema che permette di è un po' come se voi aveste il pongo permette di avvicinare le zone quindi se io qui faccio il pinch qua aspettate lo faccio il pinch magari qua non so se vedete che avvicina le zone su cui sto pinzando quindi in teoria facendo qua praticamente avvicina la parte di sopra e la parte di sotto proviamo a vederlo qua ecco vedete che praticamente avvicina le zone le rende più vicine ed è una cosa che potrebbe essere anche interessante il grab io ho visto della gente che lavora in sculting solo con il grab lo diventa il grab cosa fa dato una zona tira e praticamente permette di tirare e di ottenere degli in questo caso sono una specie di gocce vedremo poi dopo che se ampliamo il raggio del pennello ti permette di modificare in maniera anche abbastanza interessante la forma ma per la dimensione del pennello ve lo faccio poi vedere magari dopo elastic deforme è una cosa tipo il il grab solo che cerca di tirarsi dietro anche un pezzo vedete che si tira dietro anche un pezzo delle altre cose quindi lavora lavora praticamente proprio ecco questo forse assomiglia anche abbastanza a quello che succederebbe se aveste veramente una tavoletta di pongo e lo snake hook e lo vedremo poi tra poco permette invece di far uscire praticamente dei tentacoli dei tentacoli capelli o quello che è praticamente voi potete generarvi adesso adesso sono piccoli quindi sono proprio dei tentacolini no? se lo fate grosso come vi spiegherò fra poco usciranno dei tentacolini molto più interessanti o anche delle forme tipo orecchie naso eccetera se notate il fatto di aver fatto la il fatto di avere di avere la simmetria predispone a costruire degli delle divisi si può lavorare in modo anche non simmetrico certo c'è un'opzione che si può togliere della simmetria che adesso non la trovo ah sì vedete che qui insieme avete la simmetria lungo l'X se cliccate su X a questo punto non avete più la simmetria quindi a questo punto se create un 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 tentacolino facciamo così un tentacolino qua di là non c'è quindi potete lavorare tranquillamente anche in modalità non simmetrica per vedere se aumentano i vertici eccetera controllate sempre qua sopra questo che l'ho fatto vedere all'inizio ci sono alcune funzioni che aumentano i vertici e altre che no adesso non mi ricordo se è associato al colore comunque voi se tenete sotto controllo i vertici vedete quali di queste funzioni sono è strano comunque questo tra l'altro qui ci sono anche delle se vi faccio grab vedete che questo tentacolo va indietro però se io posso praticamente muoverlo e cercare di spingerlo in maniera tale da renderlo da renderlo più più uniforme verso quello che voglio grab elastico snake hook è questo qui che abbiamo visto tomb è anche più o meno una roba che muove molti di questi di questi di queste modificazioni praticamente modificano tagliano eccetera ogni tanto ricordatevi sempre di fare un remesh soprattutto quando fate questo tipo di estrusioni dello snake ricordatevi di fare sempre remesh perché così le mesh risultano un pochino più uniformi no? altrimenti risultano delle sì poi ci sono anche altre cose posa longe eccetera ma direi che a questo punto abbiamo già visto più che a sufficienza quindi 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 abbiamo visto già una dozzina di di pennelli intanto vi chiederei se avete delle domande fin qua su quello che abbiamo visto non vedo non vedo ma dunque le te allora qui con lo sculpting le texture si fanno si mettono sì dunque toglie la simmetria l'ho fatto vedere poco fa e qua in cima prima c'era la simmetria lungo l'X e se l'ho tolta per mettere la texture qui o si mettono le texture neutre oppure oppure se si voglia proprio ciao Lucia oppure se proprio si vuole fare una texturizzazione in particolare bisogna un po' lavorarci sopra ma non è l'oggetto cioè bisogna poi selezionare i punti insomma in qualche modo e lavorare ma diciamo che quello che facciamo adesso l'unica texturizzazione che vi chiedo eventualmente di fare è al limite il mettere il colore ma lo faremo magari farò vedere meglio in un video per la prossima settimana no? la texturizzazione ma dove per texturizzazione si intende quello prima di di andare poi oltre torniamo un attimo ai nostri pennelli di base quindi disegna disegna ecco disegna vedete che ha una sua raggio e una sua forza allora il raggio indica quanto intenso quanto largo è e la forza e quanto intenso è il suo effetto quindi se io ad esempio metto un raggio più grosso vedete che aumenta tutto e quando disegno praticamente disegnerebbe disegnerebbe una cosa molto più vedete che lavora proprio in maniera molto più ampia se invece il raggio lo mettiamo molto più piccolo invece che facciamo piccoletto così abbiamo un effetto un po' più deciso quindi più piccolo è più deciso e la forza mi dice quanto effettivamente lavora quindi se io qui faccio vedete questo qui è il massimo dell'intensità che vedete che è molto forte uno per ottenere questa intensità la potevo ottenere anche con il pennello normale ma dovevo passarci più volte invece forza 1 ottiene subito l'effetto si ottiene subito l'effetto massimo che permette praticamente di ottenere di disegnare in maniera più molto più intensa quindi qui abbiamo ottenuto questo effetto senza simmetria lavorando praticamente sul raggio e sulla forza la variazione del raggio si può ottenere anche non andando qua ma prendendo F cioè se io faccio F posso cambiare muovendo il mouse andare in su in giù e ottenere delle cose un po' più o meno larghe quindi se lo voglio piccolo vado qua e quindi ottengo una cosa piccola con F lo voglio largo ottengo un raggio largo e quindi vedete che si muove modifica molto di più il quindi ottiene praticamente degli effetti molto molto grossi CTRL Z ovviamente fa l'HANDU CTRL SHIFT Z va un po' più avanti quindi possiamo lavorare e poi abbiamo abbiamo detto quindi che l'F modifica il raggio e poi c'è l'ALT adesso non mi ricordo più se facciamo un F facciamo un piccolo clicchiamo col tasto sinistro del mouse e poi mi sembra che ci sia CTRL F sarà CTRL F ok CTRL F vedete che aumenta l'intensità ah no questo è l'angolo allora cos'è l'altro F no SHIFT F ecco SHIFT F controlla l'intensità quindi U1 piuttosto che poco se lo mettiamo U1 vuol dire che siamo molto intensi CTRL Z se lo mettiamo SHIFT F lo mettiamo basso siamo molto molto più 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 semplici quindi questo è il è il le basi quindi riassumendo la base di tutto quindi usare i pennelli i pennelli possono essere usati scegliendo il pennello si può decidere di premendo SHIFT di avere un pennello che praticamente che tra l'altro che serve per ridurre vedete che cancella gli errori quindi SHIFT fa una sorta di cancellino che tra l'altro se faccio forza grossa e faccio SHIFT vedete che cancella in maniera molto più un pochino più decisa in molti strumenti allora se qui faccio F lo riduco e qui c'è la striscia se io faccio CTRL inverto il pennello quindi invece che mettere il rilievo col CTRL prende il pennello corrispondente e fa l'operazione apposta quindi posso incidere anziché mettere il rilievo e quindi per ottenere c'è una specie di bocca in questo caso e lavorarci sopra scusami Annie chiede se si riesce a fare lo sculpting con una texture per esempio seguendo un motivo per dare un rilievo corrispondente alla texture io penso di sì però non è facilissimo no c'è una nelle opzioni che sono qua sulla destra mi sembra vedete che c'è texture e qui potete mettere una texture che lavora come pennello hai visto? e quindi puoi e poi ce ne sono alcune cose che fa automaticamente però sono tutte cose molto complesse perché tra l'altro le texture vengono usate per ottenere degli effetti del tipo tessuti no? cioè se tu fai un abito allora qui gli metti proprio la la struttura dei come dire dei fili del tessuto e qui non devi essere tu a fare il tessuto ma lo fa la texture il tessuto se ti modifica la mesh in modo tale da ottenere proprio quel tessuto infatti fanno così per fare gli abiti poi la cosa interessante che dicevi anche tu Eva era che una cosa del genere che sono 350.000 vertici su OpenSIM non la trasferireste mai quindi come fate per trasferire una cosa simile su OpenSIM occorre andare nel modificatore nei modificatori e scegliere quello che è una decimazione allora decimazione fa proprio esattamente quello che sembra cioè quindi c'è un rapporto non so se l'avete visto nei corsi di questo mese o del precedente ma è fondamentale perché 350.000 vertici non vanno bene però perché 350.000 vertici sarebbero una quantità tipo 350 prima in i Second Life quindi noi dobbiamo ridurre questi 350.000 vertici a un qualche cosa di un po' più valido quindi per esempio a noi basterebbe che ci sia vabbè l'ideale sarebbe tipo 3500 vertici che vuol dire dividere per 100 allora se vogliamo dividere per 100 dobbiamo fare 0.01 che divide per 100 proviamo a vedere cosa succede dividendo per 100 ok quindi abbiamo ecco vedete che lui ha diviso siamo arrivati effettivamente a 3532 e in effetti se ci fate caso ho ottenuto una mesh che a questo punto è OpenSIM friendly perché 3332 sono relativamente pochi e tutto sommato ricorda moltissimo la mesh cioè lo sculpting che ho fatto chiaramente se a questo punto andiamo in modeling ah dobbiamo applicarla questa cosa quindi modalità modifica andiamo in modalità oggetto se si decide perché sono tantini e poi qui quando si è in modalità oggetto possiamo applicare questo modificatore cliccando qua e poi applica contro là ecco una delle cose che nella 290 io ci ho impiegato un giorno a trovare è dove era l'applica dei modificatori non so se Eva anche tu hai avuto lo stesso problema sì un pochino ecco perché non c'è più applica una volta qui c'era un tastino che faceva applica adesso invece bisogna o cliccare qua e fare applica quindi abbiamo l'applicazione della decimazione ok e a questo punto abbiamo questo signore che è fatto più o meno come l'avevo visto in sculpting è un po' grezzo quindi in teoria dovrei fare ombreggiatura levigata tasto destro ombreggiatura levigata e tendenzialmente è un po' più morbido però questa cosa qua teoricamente la posso esportare in formato collada e portarlo su OpenSIM non so se riesco Daniele chiede avevamo visto dal video in anteprima che può cancellare dei tratti disegnati ma l'AMSUL divide non può fare lo stesso e meglio? non ho capito bene la domanda può cancellare qualcosa posso dirtelo a voce? sì però nel video che hai già messo in anteprima a questa lezione facendo il decimatore tu avevi detto anzi ce l'hai proprio fatto vedere che dei tratti fatti in rilievo mi sa col draw col primo dei pennelli in pratica venivano o meno si appiattivano e quindi tu dicevi caspita però se io faccio delle scritte sotto questo potrebbe essere un problema e mi sa che lo facevi proprio usando il modificatore decimazione o come si dice in inglese ma la domanda che ti faccio è se io devo ridurre i vertici gli spigoli perché penso di importare questa cosa in formato collata in open sim mi chiedevo io se non l'hai fatto se può essere uno spunto usare l'AMSUL divide che comunque anche c'è un vago rischio di fare delle cose sue rispetto all'originale ma non è che magari conserva meglio la forma pur riducendo quello che abbiamo bisogno cioè i vertici e i spigoli allora il passare da una struttura high poly a una struttura low poly che è quello che stiamo facendo noi adesso è una cosa che si può fare in tantissimi modi il decimatore come abbiamo visto adesso è uno in realtà dei più efficaci perché vedete che decima riducendo i vertici soprattutto nelle zone che lui ritiene piatte vedete qua c'è pochi vertici e ne aggiunge tutte le zone che invece non sono tanto piatte quindi praticamente fa un lavoro di cesello ci fa un lavoro molto sofisticato e oltretutto nell'ultima versione di Blender lo fa meglio perché una volta lo faceva peggissimo probabilmente un tre anni fa un decimate fatto qua avrebbe tolto tutti i tentacoli no? invece adesso se ne è accorto e li ha gestiti però oltre al decimatore che magari potrebbe non funzionare si potrebbe anche usare di nuovo un ricava mesh che sarebbe un altro modificatore qui c'è una cosa che non riuscirò mai a trovarla ma c'è un ricava mesh da qualche parte ricava nuova mesh e questo ricava nuova mesh se lo clicco mi presenta in o il voxel size ad esempio 0,1 e posso applicare questo e fa un mestiere leggermente diverso quindi devo andare in object mode e vedete ecco mi fa vedere cosa fa ecco il ricava mesh come vedi fa un lavoro abbastanza brutto perché è tutto uniforme no? se io applico il ricava mesh vedi che lui applica tutta una una mesciatura completamente uniforme che è diversa e oltretutto si perde non so se hai notato si perde i tentacoli no? quindi facciamo 4Z torniamo alla versione con il decimate e via a posto altri sistemi ce ne sono almeno vedo 5 o 6 diversi per fare questo mestiere il problema in senso stretto si chiama retopology no? la retopologizzazione di una mesh ed è una cosa molto molto complessa quindi si può fare ad esempio ho visto gente che lo fa con dei piani e poi fanno aderire i piani un po' come fossero dei vestiti all'oggetto però i piani hanno pochi vertici quando avete presente i veli messi su l'oggetto si depositano però tutti questi strumenti qua hanno il difetto che se ci sono delle scritte in rilievo di quel tipo lì tendono a cancellarle quindi le scrittine in rilievo dettagli in rilievo di quel tipo lì sono abbastanza difficili sono forse la parte più difficile in assoluto da conservare se tu vedi che il sistema che mi hai detto tu che fare l'ansubdivide dà dei buoni risultati magari l'ho detto anch'io può darci che l'abbia visto da qualche parte ottimo quindi vuol dire che è un workflow che si può usare però nel principio probabilmente quando ci sono quelle cose lì converrebbe forse fare le famose come si chiama le normal map che piacciono tanto a tutti normal map sono praticamente dei rilievi che vengono scritti in delle texture e ci sono dei metodi che permettono di incidere proprio questi rilievi e ho fatto anche dei video in passato che spiegano come fare il baking delle immagini fatte in normal map per quel destino lì però per i fini che stiamo dicendo noi adesso direi che siamo già abbondantemente a posto con il remesh con il decimate non so se ti ho risposto Daniele comunque questa cosa qua proviamo a prendere un secondo e facciamo un export esportiamo in collada la esportiamo in downloads e mettiamola sotto Leonardo dove abbiamo delle cose qui la chiamiamo mostro mostro.dae poi qui facciamo solo selezione e credo che geometria ricordo è talmente semplice che il default dovrebbe funzionare quindi sotto download Leonardo esporta collada quindi noi adesso se io vengo qua che sono nell'aula dove siamo pochissimi forse uno o due io e provo a fare un word era sotto word che non mi ricordo già più o sotto build facciamo l'upload facciamo mesh model andiamo in abbiamo il mostro.dae poi qui dobbiamo chiudere questo quindi abbiamo questo mostro ricettolino fatto così vedete questo mostro ricettolino chiamiamolo mostro qui mettiamo use load perché high e medium questo punto va bene così calculate weights e poi proviamo a vedere facciamo una piccola upload del mostro vediamo se ce lo carica ok il mostro è caricato lo mettiamo e qui abbiamo il nostro il nostro oggettino con tanto di tentacoli però aspetta mettiamoli ah tra l'altro si è portato anche un po' la texture che ci aveva su blender andiamo andiamo però a mettergli una texture bianca e gli mettiamo un colorino insomma gli mettiamo un marroncino un po' più evidente e poi io di solito quando facevo queste cose gli mettevo una shininess una piccola shininess per vedere un po' di dettagli e ok abbiamo una specie di roba di porcellana e quindi siamo riusciti a trasferire un oggetto scolpito in blender in un qualche cosa che tutto sommato è abbastanza leggero e qui se andiamo a vedere il il peso forse non te lo dice nè ti dice uno in realtà probabilmente se fossimo in second life ci darebbe un peso leggermente più alto di uno però tenete conto che nel momento in cui rimaniamo sui 5000 6000 vertici non dovrebbe pesare più di 45 prim forse anche di meno insomma quindi è un modo per costruire delle cose altrimenti impossibili assolutamente impossibili con i prim quindi delle cose organiche come appunto questi mostriciattoli e via dicendo quindi io adesso poi credo che è stato un'ora abbiamo più o meno finito ma l'idea quindi adesso questo incontro di oggi serviva per darvi un attimo di familiarità con i pennelli scusa io chiedevo se se torni un attimo in edit mode in edit mode si 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 può fare un triangulate cioè rendere più i vertici come dire più si si puoi fare tutto quello che puoi immaginare adesso non mi ricordo dove è la triangulate tu ti ricordi no mi sembrava un modificatore però se è un modificatore facciamo aggiungi modificatore aiutami a trovare il triangolo e poi deve andare così facciamo l'applica si però credo che non abbia fatto un gran che si non mi sembra ma perché credo che il decimate faccia già una triangolazione infatti vedi che sono tutti triangoli questi si però non sono regolari vabbè comunque era una curiosità e sulla storia dei regolari è un casino tra l'altro come vedi il decimate ha fatto dei miracoli qua perché qui ha dedotto che non c'erano robe e quindi non ha fatto niente quindi lui per riuscire a fare questi meccanismi Maria Luisa chiede se anche con lo scultimo è bene controllare le normali beh le normali è meglio controllarle sempre quindi io ho sbagliato a non farvelo vedere perché me l'avevo anche puntato le controlliamo con l'orientamento facce spesso diciamo che se fate delle cose non tanto estreme è molto improbabile che abbiate delle zone rosse però se cominciate a giostrare estrarre dei dei polipi tormo strani e avete pochi vertici è possibile che vengano fuori delle schifezze proprio anche come i normali e in quel caso sicuramente fate un controllo però visto che in quei casi lì ci sono due metodi per risolverlo tanto qui c'è in realtà una zona rossa vedete che lì c'è un pezzettino rosso che non sta bene è perché in effetti questa cosa qua ha un difetto di normali che però a questo punto direi che per il tipo e la qualità di cose conviene proprio prendere questi vertici e buttarli via fine no perché non è che cambi no quindi aggiungono soltanto un problema di normali senza dare un vantaggio alla forma ho risposto a Maria Luisa ottimo magari io adesso provo a fare anche per la prossima volta no un piccolo esempio di costruzione di un mostriciattolo tipo quelli che ho messo su Facebook molto semplici vediamo un po' riusciamo a vederli eh no non riuscirò a vederli perché era su edu3d 3d blender un po' ah c'è Giovanna Giannone che ha fatto già un elfo dei boschi quindi l'ha fatto 32 minuti fa che interessantissimo ecco questi qua vabbè adesso fatti così in realtà si possono fare anche senza sculting però l'idea di costruire degli oggettini magari mettendoci degli occhietti messi in posti strategici delle bocche e forse delle corna o delle cose così cercando di evitare di metterli come oggetti come oggetti normali in più l'altra cosa che mi aveva colpito che quando ho pubblicato questa cosa qua oggi mi aveva risposto sempre Maria Luisa non so se la ritrovo che aveva detto che lei effettivamente aveva fatto qualcosa del genere e l'aveva applicata su un pomello della zucca però non lo trovo già più quindi pazienza vuol dire che lo quando poi lo trovo comunque è una cosa molto semplice lei ha usato praticamente soltanto il pennello draw e ha ottenuto questo effetto questo mostriciatolo qua che avete visto io l'ho fatto vedete che è una cosa bruttissima ma praticamente i capelli l'ho fatto estendendo con il con quel come si chiamava questo pennello vediamolo un po' qua scouting lo snake con lo snake ho tirato su i capelli questa specie di capelli e la stessa cosa l'ho fatta anche per le orecchie nel senso che ho tirato fuori con con quel pennello il naso anche qui vabbè l'attacco è bruttissimo inizierò con il più bello ma gli avevo poi messo uno di quei modificatori che sono qua in fondo che fanno mi ricordo più quale di questi vuol che che li gonfiava insomma introduceva dei difetti cioè che li gonfiava e gli faceva un po' così però per il resto secondo me se uno si gioca dovrebbe ottenere degli effetti interessantissimi io che sono negato a me praticamente si riesco a ottenere degli effetti quando non cerco di ottenerli tipo qua ad esempio ho ottenuto questi effetti qua perché ho provato e ho tirato giù e mi sono venuti queste cose un po' qui da virus ma se l'avessi voluto ottenere perché li volevo effettivamente probabilmente avrei avuto a me sarei rimasto frustrato però mi aspetterei che appunto anche soltanto generando anche un po' per caso degli effetti insomma quello che dicevo prima si riesce anche a divertirsi e a fare anche poi il discorso che dicevamo questi giorni di didattica DAD che è quello di far giocare i ragazzi i ragazzini per ottenere anche degli effetti diciamo stupidelli ma che gli fanno capire che possono fare qualcosa poi a un livello successivo quando il ragazzino o anche noi siamo un pochino più disponibili e abbiamo più esperienza possiamo anche fare delle cose un pochino più mirate come nel video che ho fatto vedere ho fatto vedere come si faceva una cintura non so se l'avete visto e la cintura era molto bella ed era ottenuta con con dei pennelli abbastanza semplici tutto sommato si cercasse si prendevano era tutto fatto sul grab e poi era ottenuto con delle con quell'altra sì aspetta sì il scrape praticamente lavorando con grab e scrape quindi con solo due pennelli si ottenevano degli effetti fantastici senza neanche impazzire troppo quindi come pensate l'idea di fare una mostrina una mostra di mostriciattoli di Natale nessuna risposta vediamo se ok questa è la cosa ah questa è la famosa Subdivine ok ok perfetto il mostro di Giovanni Logcraft questo l'abbiamo visto anche noi carinissimo normali ah ha avuto problemi nell'import in OpenSim se non fate delle cose drammatiche dovrebbe dovrebbe essere abbastanza costo zero tra l'altro io l'ho partito con un cubo ma si può partire con la sfera però il cubo ha anche il suo fashion ah vedo che Giovanni no ma secondo me secondo me sto leggendo scrivete un sacco però ok allora io vi lascerei e adesso nei prossimi giorni appunto dicevo eventualmente cerco di fare anche un po' di lavori sulle texture però come ho detto prima non il massimo che posso farvi sulle texture è dipingere i vertici con dei colori non aspettatevi niente perché se dovessimo andare a mettere texture professional come si deve diventa un po' un problema cioè potete fare lo stesso ovviamente facendo le proiezioni se avete già delle foto però delle texture fatte perfetti puoi partire da qualunque punto di uno mesh questa è una cosa fondamentale ad esempio la Maria Luisa era partita da un pezzo di cono che aveva fatto e di quello l'aveva scolpito quindi aveva aggiunto quell'effetto solo a quel pezzo invece la zucca è per fare il picciolo insomma come si chiama il si chiama picciolo anche nella zucca comunque la cosa interessante dello sculting è che permette di fare anche delle modellazioni organiche si chiamano cioè delle modellazioni che non sono solo dei cubi o dei rettangoli o delle cose ma sono molto più picciole ma sono delle cose diciamo che possono con cui potete costruire adesso non dico proprio arrivare agli animali allora gli sculpted in blender no non sono gli sculpted in open sim gli sculpted in open sim erano un trucco creato nel 2006 2007 non mi ricordo quando che permetteva di ottenere degli effetti tipo mesh quando in second life non c'erano le mesh quindi facevano una sorta di di sculpting sì però fatto in maniera molto arzivogolata molto complessa per farla bisognava comprare un programma che si chiamava Primstar che costicchiava altrimenti si dovevano fare delle cose anche gratuitamente ma io ho fatto anche dei corsi ma era una sofferenza unica quindi io gli sculpted in second life o di open sim perché esistono anche in open sim ho smesso di insegnarli credo nel 2013 quando sono arrivate le mesh gli sculpted avevano un piccolo vantaggio che erano quello che visto che tutte le informazioni di cioè tipo questo poteva anche essere uno sculpted per intenderci e questo veniva passato non come una matrice di vertici come un sistema di vertici ma veniva passata come una texture quindi gli sculpted erano delle immagini che venivano si trasformavano in un oggetto tridimensionale però visto che appunto un'immagine non può mai essere un oggetto tridimensionale aveva una serie di vincoli folli forti e folli per cui alla fine insomma c'era una frustrazione infinita nel momento in cui sono comparse le mesh siamo passati decisamente alle mesh e abbiamo abbandonato e buttato dalla finestra i prim tieni conto che però se lavori in second life gli sculpted sono ancora usati abbastanza abbastanza piccolo perché quelli in second life quando hanno introdotto le mesh hanno deciso di far pagare molto le mesh quindi la stessa cosa fatta in mesh o in prim in realtà a volte si occupa molti meno prim con la mesh però se sono delle cose curve cioè che sono delle cose tipo sfere o colonne o cose del genere se le fai in mesh diventano costosissime uguali e allora per risparmiare i prim in second life si usano ancora a volte gli sculpted però è una una perversione insomma cioè un masochismo andare sul ulteriormente detto questo dieci e mezza io sospenderei la registrazione un attimo che vedo sì